In diminuzione i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono quattro in meno rispetto a ieri nel saldo fra entrate e uscite, 136 nuovi ingressi registrati oggi. I malati attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 2.579, nei reparti ci sono 23.317 persone, 242 in più di ieri. Aumentano i guariti o dimessi 16.206 per un totale da inizio pandemia di 1.520.106. Il coordinatore del comitato tecnico-scientifico Miozzo dopo essersi vaccinato allo Spallanzani di Roma ha dichiarato, credo che i prossimi giorni sono ancora d'attesa, non possiamo abbassare la guardia. Sono 1.113 le persone sanzionate, 6 quelle denunciate nella giornata di ieri nell'ambito dei controlli delle forze dell'ordine, lo rende noto il diminale informando che sono stati controllati, 11.221 attività o esercizi commerciali, 11 chiusi, 29 titolari sanzionati. Sono 118.713 nel frattempo le vaccinazioni anti-covid effettuate oggi in tutta Italia.